E' crollata una miniera di carbone e 21 persone, 21 operai, hanno perso la vita sotto alle macerie. E questo è il tragico bilancio di questo incidente che c'è stato nella parte settentrionale della Cina. Una parte della miniera è crollata, travolgendo 21 operai che stavano lavorando alacramente. Al suo interno, come i media cinesi ci informano, l'incidente si è verificato precisamente ieri, 12 gennaio 2019, a Shenmue, nella provincia di Rochaxi, cuore della cintura di estrazione del carbone del paese, secondo l'archivio di Stato e l'agenzia di stampa Xinua. 66 minatori, altri, sarebbero stati salvati, come ci fa sapere il governo della città, attraverso una dichiarazione. Il numero di vittime per colpa di esplosioni e dati di seassi nel miniere di carboni è diminuito drasticamente negli ultimi dieci anni di tempo. Ma faccio sapere a tutti che, diciamo così, le miniere possono essere considerate come di luoghi in cui si perde ancora oggi la vita. Ed è un dato questo che, di fatto, ci deve indurre a compiere una riflessione precisa. Grazie per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto e al prossimo narratore italiano.